Mossa contro Aradori, spalla canestro, riposta, Daniel è pronto ad andare in aiuto, Mossa si gira sul... ...quick shot from Batras, Mossa, 3-4 line, Junker, David Mossa... ...quick shot from Batras, Mossa, 4-4 line, Junker, La Coda, Gelli, La Coda, Gelli, La Coda... ...gonna, Gelli, La Coda, Gelli, La Coda, Gelli, La Coda... Mosh Riano da Kainya Ommuos parata il è stato un giro un giro un giro un giro un giro Grazie a tutti. 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 Moss off the screen, jump stop, there's Moss with the elbow jumper. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Moss... ... And another three point. ... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti